bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite quello che arriverà nei prossimi giorni e quello che c'è già stato qualche ora fa sì perché parleremo dell'evento quella roba lì diciamolo un pochettino di fortnite con punk ma vedremo anche dei regali che arriveranno e ovviamente parleremo anche della pace prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle news ma vediamo anche ragazzi che ci saranno sicuramente un bel po di leaks in arrivo qualcosina voglio farvela vedere ma prima lo sapete la domandina ci tengo tanto a leggere i vostri commenti proprio qua sotto a qualcuno metto anche il cuore quando riesco a ritagliarmi qualche minuto e ovviamente alla domanda non poteva che essere ma a te come è sembrato l'evento di ieri sì perché alla fine è stato annunciato quasi verso la fine con una ventina di ore di anticipo la collaborazione di fortnite con punk vi ricordo punk è una specie di è un programma televisivo americano che riprende molto il nostro scherzi a parte lo hanno fatto a rapide rischiose io ho avuto modo di vederlo un po dopo in realtà lascio a voi un attimo il giudizio come vi è sembrato scrivetelo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito un attimo a vedere allora è quello che è successo lo commentiamo mentre mentre lo stiamo guardando ovviamente in realtà non lo dove cavolaccio è finito eccolo qua ragazzi l'ho perso l'ho perso questa è appunto una parte uno spezzone del dell'evento se così lo vogliamo chiamare è che c'è stato un problema durante l'evento stesso ovvero sia mentre venivano riprodotte alcune parti appunto degli scherzi fatti ai personaggi noti americani ovviamente ci siamo anche resi conto che c'è stato un momento in cui è stata data la victory royale a tutti e come mai è successa questa cosa perché sono stati fatti dei test sulla nuova ltm che l'ltm in sé è molto molto interessante il problema e adesso ne parliamo è che mostrando la victory royale purtroppo tutti i giocatori sono stati fatti uscire dal gioco o comunque la maggior parte questo ha un pochettino rovinato diciamo l'esperienza che si stava vivendo appunto guardando una cosa particolare allo schermo ma in realtà ragazzi è stato un flop non è assolutamente piaciuto ho letto un po di post nella community io stesso l'ho riguardato non era niente di che ma non allarmatevi non era altro che una catina che hanno fatto per così perché ci avevano voglia l'evento invece di questa season della season 2 sarà un qualcosa di mastodontico perché ci stanno veramente lavorando sopra con tanto tanto impegno quindi non abbattetevi non abbiate paura non c'entra assolutamente nulla ed infatti andiamo a vedere anche alcuni messaggi pubblicati dove dicono appunto che c'è anche un problema nella ltm perché hanno dovuto disabilitarla e fixarla in quanto appunto continuava a dare parecchi crash e non funzionava correttamente il problema appunto è anche stato dato dal fatto che hanno aggiunto l'ltm mentre stava proiettando i video su rischi reels quindi su rapide rischiose ora ci auguriamo che vengano appunto sistemati brevemente magari in queste ore lo hanno già fatto il video è registrato con qualche ora di anticipo sappiamo che di queste ltm ci sono un sacco di cose curiose si potranno rivedere degli oggetti storici che hanno appunto caratterizzato il fortnite così come lo conosciamo ma andiamo avanti con un altro argomento che abbiamo già trattato ieri ma è molto importante ovviamente la collaborazione di fortnite con house party vediamo sotto qua il logo di house party ma soprattutto vediamo dall'altra parte una copertura una skin per le armi che verrà regalata qualora facessimo una cosa mi spiego meglio vi ricordate l'autunno scorso che si poteva ottenere la copertura foglie d'autunno ora non ricordo cosa dovessimo fare però c'era quella barra che siamo riusciti appunto a completare beh questa volta scaricando sul vostro dispositivo android o ios l'applicazione house party potrete rispondere a delle domande trovate tutto ovviamente sulla sezione news di fortnite quella ufficiale del loro sito non appena la community avrà risposto a 20 milioni di domande che sono tantissime entro le ore 5 del 15 aprile o del 17 aprile se non ricordo male potremo tutti ottenere come ricompensa appunto questa copertura non necessario ovviamente dare dati necessario associare account a quanto mi risulta c'è solo un traguardo una volta completato tutti la otterremo quindi davvero molto molto interessante grazie a pgames per quest'altro regalo ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi in realtà vi do un consiglio tutti i ragazzi che hanno provato a riprodurre l'evento magari caricandolo sui vostri canali se lo avete fatto con l'audio purtroppo è partito lo strike per copyright non lo strike al canale semplicemente hanno demonetizzato o addirittura annullato la monetizzazione dei video perché con grande sorpresa da parte di tutta la community l'audio è stato messo sotto copyright che è già la seconda volta che fanno questa porcata perché l'hanno fatta quando hanno inserito il balletto di never never gone gone give you up never gone say goodbye no è presente quello lì disastro per tutti quelli che lo hanno fatto partire durante le live demonetizzate in massa quindi altra cosa che non ci ha fatto assolutamente piacere se per caso dovesse aver caricato qualcosa ed è demonetizzato ecco questo era il motivo ma andiamo avanti ragazzi a parlare anche invece della patch 12.40 perché finalmente è arrivata una conferma abbiamo visto che fino a ieri la patch 12.40 la 12.41 e la 12.50 erano semplicemente nei test server quindi dei server privati dove ovviamente non possiamo accedere e dove fanno tutte le prove per vedere quanto sono grandi i bug che creano e mi è da rire sempre i bug ogni cosa che facciamo ma invece c'è un aggiornamento perché la patch 12.40 è passata negli stage server questo vuol dire appunto che sono pronti dovrebbe arrivare con un 99 per cento di probabilità mercoledì o giovedì prossimo quindi ancora un attimino di pazienza il fatto vi ricordo di avere la patch 12.41 e la 12.50 è che la season potrebbe essere prolungata fino al 15 maggio prima di salutarvi però ragazzi volevo farvi vedere un attimo per chi se lo fosse chiesto intanto lo andiamo a vedere molto rapidamente la copertura eccola qua ragazzi voi avete visto il disegno questo invece è proprio la copertura in game che devo dire è veramente carina anche perché è una copertura animata l'effetto è notevole per essere una copertura gratuita secondo me ci sta tutta quindi ripeto grazie ad epi games adesso ragazzi ovviamente dovremmo semplicemente avere un attimo di pazienza per capire quando e se arriverà ovviamente la l'annuncio ufficiale da parte di epi games che la season verrà prolungata questo potrebbe appunto permettere a tutti voi di avere la possibilità di livellare ovviamente l'account quindi di poter colorare il più possibile le vostre skin con la patina oro che viene data a tutti gli agenti e noi ovviamente e io ovviamente cercherò di tenervi aggiornati su tutto quello che accadrà io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate in live su twitch adesso ciao grazie a tutti